Siamo qui con Priscilla Ivarescali, Quinta A, Benedetta Caldararo, Quinta A. Quale progetto vi ha visto occupate nel primo periodo del nostro anno scolastico? Il progetto che ci ha visto occupate in questo primo trimestre è stato un progetto che ci è stato proposto dalla provincia di Lecce riguardante la violenza di genere e ci siamo concentrate su una violenza esercitata in maniera subdola e una violenza che viene agita attraverso le parole che vengono scagliate contro le persone come delle pietre e segnano fin da piccoli poi e trasformano la propria persona. Quali sono stati gli aspetti e le esperienze positive che vi hanno segnato maggiormente e hanno comportato anche io magari una vostra crescita a livello personale? Sicuramente prima di tutto la condivisione delle nostre esperienze, infatti abbiamo iniziato il percorso raccontandoci l'una all'altra e affidandoci alle altre, ci siamo aperte dicendoci quali fossero le nostre esperienze, quindi sicuramente siamo adesso ricche di esperienze non solo nostre ma anche delle altre persone e soprattutto è stata importante la fase dello studio, infatti abbiamo studiato teorie femministe e quindi abbiamo letto libri e ci siamo appunto riferite alla cultura. Va bene, grazie mille.